Occhi ulteriormente puntati su Ronaldo dopo quello che è accaduto ovviamente in Champions Ma non solo, anche Paolo Di Bala mi sembra che sia un osservato della serata Sei parte, vai Gianluca, parla con il Frosinone Sì, attenzione, il Frosinone ha inoltrato una richiesta che la Juve giocasse in sei per equilibrare le forze Non è stata accolta E adesso c'è Zampano La rimessa laterale, la prima e forse ultima azione d'attacco del Frosinone Capita dopo dieci secondi Rimessa laterale, lo scambio, prova ancora ad avanzare Zampano, fermato Corner battuto da Miralem Pjanic, il quinto della partita per la Juventus Battuto corto per l'arrivo di Alexandro sul primo piano Però è stato anticipato, devo dire che di testa è stato sontuoso Salamon Questa sera il tiro dalla distanza di Cancelo E Alexandro prova e trova Pjanic, Pjanic contrato Ronaldo G Aspetta, aspetta, goldilo, aspetta, 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 sentila, aspetta l'onda, l'onda nell'angolino Ronaldo aspetta ma cosa aspetta non è l'Inter l'ha risolta per il momento Cristiano Ronaldo il mood di Monblano la Juve vola 15 punti stavo riguardando buono buonissimo che gol allora in la mood come è che gol rivedendo anche la questo è un gol ma anche cosa lo faceva quello là come si chiama prunzo lo faceva ma che sono gol ma ti avete visto bellissimo ma lo fate paragone buoni perché è stato controllato anche al VAR e in questo istante è dato il gol con validato con validato perché qualche dubbio c'aveva anche Valt sulla posizione Salamon lo teneva in gioco in mezzo all'area che teneva in gioco Salamon allora Milan chiediamo scusate un attimo un attimo Cesare se no da casa non capiscono niente un momento grazie tutto parte da un'azione di Cancelo che fa una conclusione un po' velleitaria viene ribattuta la palla arriva sulla sinistra poi c'è Pjanic l'ha presa anche male conclude la sua conclusione al momento del tiro viene deviata la posizione di Cristiano Ronaldo però è regolare Ronaldo è il più veloce ad arrivare sul pallone si gira e si gira e batte sai che c'è una doppia deviazione adesso il Frosinone gioca tanto eh ne vorrei vedere attenzione palla ancora giocata sulla tre quattro bagliela strappare bagliela strappare vai vai un po' aperto un po' aperto un po' aperto ma Pjanic resta la palla Pjanic finisce il contrasto il cross per Bernardeschi Bernardeschi cosa fa? Bernardeschi la volta per Bernardeschi 2 a 0 2 a 0 risultate risultate zero rischi zero rischi zero rischi ciò che fa punteggiamo per 2 a 0 l'onda 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 punteggio pieno Europa arriverà la gioia allora 2 a 0 con Bernardeschi buoni il mood di Montblano dopo questo raddoppio della Juventus va bene sono un po' effemminato no ma a me cosa c'entra? scusate Bernardeschi Bernardeschi è effemminato guardate che gol ha fatto la pantagonna lo sai? la pantagonna classica adesso rigiro ti faccio vedere bravo per la tua a 0 per noi va bene la Juve anche quando sbaglia diventa pericolosa perché aveva sbagliato la ripartenza poi Piani ci ha riuscito comunque a tenere il pallone per servire Bernardeschi ancora Frosinone ancora Frosinone a questo punto mettetela in mezzo una palla tanto è finita mancano dieci manco in mezzo l'ultimo sì che è finita è finita è finita applausi anche applausi anche ma tu cosa applausi vi abbiamo volato i guaiini vi abbiamo volato i guaiini vi abbiamo volato i guaiini Sì!